Buongiorno a tutti ragazzi qui da Kim e adesso è un nuovo video vlog Raga oggi vi farò vedere il computer di mio fratello che si è comprato Raga, mio fratello ha speso 1800 fucking euro di computer Raga perché io con 1800 euro mi faccio tre vite, ok? No vabbè, raga a parte i scherzi oggi ve lo farò vedere Un computer veramente raga potente, ma voi non avete idea di quanto cazzo è potente Anche perché 1800 euro voglio anche che non sia potente Quindi raga veramente è il top, oggi ve lo farò vedere, vi farò delle belle riprese, ok? Ma prima vi spiego un attimino E dopo le riprese fighe che io so poco di computer, ok? Cioè so, io so di computer, ok? Ma non so di computer fissi Cioè io me ne intendo di quelli normali, non di quelli fissi, ok? Di quelli fissi è tutta un'altra roba, ok? E io non me ne intendo Quindi a fine video raga, appunto dopo le riprese fighe Vi farò vedere mio fratello Perché visto che io raga devo andare a scuola fra mezz'ora Proprio si registrerà e vi parlerà di ogni singolo pezzo che ha comprato Chi ha comprato vi dirà il costo E tutte le robe che ha da dirvi vi dirà lui Perché io non me ne intendo di computer fissi Ragazzi ci vediamo con le riprese fighe Bella In heavy hands In weary eyes I stand defeated For you Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501